Ciao qui è Joe di Seduzione Attrazione e nel video di oggi rispondo ad una delle vostre domande che ci avete inviato. La domanda è in che modo le persone introverse possono avere successo nella seduzione? Penalizza esserlo? Allora signori, io come al solito, per carità, rispondo alle vostre domande, ma vi consiglio di andare a guardare quelli che sono i video gratuiti che ho già creato, perché per esempio avreste trovato risposta a questa domanda. E io, per carità, a fine giornata vi rispondo comunque, però il punto è questo. Se voi non siete abbastanza motivati fra quello che è il materiale gratuito, ad andarvi a cercare quello che è stato già creato e che vi può essere utile, significa che di fondo non siete abbastanza motivati per imparare questa roba. Ora, passiamo a quella che è la tua domanda. Penalizza esserlo? Si penalizza. La cosa migliore per una persona introversa è quella di fare approccio di giorno piuttosto che approccio di notte, o meglio, partire da approccio di giorno piuttosto che l'approccio di notte. Per quale motivo? Perché di notte, fisiologicamente, voi dovete gestire gruppi, perché di notte le dinamiche sono di gruppo, le ragazze sono in gruppo, possono essere con amiche o con amiche amici, eccetera, eccetera. Quindi dovrete gestire gruppi più complessi, che non sono l'ideale per un introverso, ma sono più gestibili da un estroverso, ok? Questo è pacifico, lo capisce anche un bambino. Detto questo, in ogni caso non è che l'approccio di giorno sia una panacea per tutti i mali, per quanto riguarda le persone introverse, nel senso che il vantaggio che vi dà l'approccio di giorno sta nel fatto che potete approcciare una ragazza singola, cioè una ragazza che si trova sola, e questo, oltre a essere il bread and butter, come dicono gli americani, dell'approccio di giorno, in realtà è più semplice per una persona introversa, perché non vi mette nella condizione di dover gestire un gruppo, ma semplicemente di parlare, semplicemente con quella che è la ragazza, che ne ho specifico, vi interessa in maniera solitaria, tu per tu, faccia a faccia, per così dire. Quindi non dovete gestire dinamiche di gruppo più complesse, che per voi possono essere fastidiosi se partite da una situazione in cui siete introversi. Però, in ogni caso, questo non vuol dire che voi dovete rimanere introversi per tutta la vita, perché no, non può essere una cosa positiva per definizione quella di essere introversi nella soluzione, perché voi necessariamente per ottenere risultati dovete interagire con tante donne, e questo significa che è una cosa che un introverso farà un po' fatica a fare, ok? Quindi è un qualcosa da cui dovete uscire. Ma, l'ho già detto in un altro video, per dirla alla Robbins, non è che voi siete introversi, siete entrati nell'habit, cioè nell'abitudine di essere introversi, se voi iniziate a fare quelle che sono le azioni corrette, cioè fare tanti approcci, come io vi suggerisco, e eventualmente, se ritenete che sia il caso, unire quello che è il lavoro sul campo, eserci in Ergain. Voi, introversi, non lo sarete più, perché semplicemente, uscendo da quella che è la zona di comfort, modificate quella che è la vostra personalità. Ora, con questo non voglio dire che non ci siano, voglio dire, persone più o meno introverse o estroverse di natura, ma dico che è un qualcosa sulla quale si può tranquillamente migliorare e che si risolve, ok? Quindi è un qualcosa fondamentalmente che devi risolvere. E lascia che ti dico una cosa, io capisco da dove arriva la tua domanda, cioè tu vorresti rimanere introverso fondamentalmente, e ottenere comunque risultati. Però, signori, quello che voi dovete capire è che per ottenere risultati in quest'area, e io sono l'unico che ve lo dice in Italia, e continuo a ripetervelo, ripetervelo prima o poi vi entrare in testa, dovete necessariamente cambiare la persona che siete. Oggi, mi dispiace, ma è così. Se oggi voi non state ottenendo risultati, Einstein diceva che fare le stesse azioni, sperando di avere risultati diversi, è il più evidente sintomo di pazzia. Ora, questo si può dire anche per rimanere la stessa persona, e pretendere di avere risultati diversi, è uno dei più evidenti sintomi di pazzia. Quindi, riassumendo, potenzialmente si può avere qualche successo, saranno sempre castrati rispetto a quelli che potresti avere diventando pian piano estroverso, e quindi è un qualcosa che devi fare, cioè devi esporti alla dura realtà del campo, se vuoi puoi fare eventualmente anche degli esercizi di inner game, ma questi non devono essere mai una scusa a non andare sul campo, ma un in più. E a quel punto vedrai che pian piano, ampliando quella che è la tua zona di comfort, risolvi il problema, ok? Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti, il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano, è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.